Se possedete Red Dead Redemption 2 e giocate a Red Dead Online su console PS4 potrete tranquillamente contattarmi su uno dei miei social per richiedere la mia richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Inoltre se volete potrete anche supportarmi come creatore nel negozio oggetti su Fortnite scrivendo il mio ID Epic Games or Cover The Gamer 12 scritto anche nella descrizione. Supportandomi come creatore e avendo l'amicizia su Epic Games avrete anche l'opportunità di giocare con me su Fortnite. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione che si intitola Epic Games e stende in modo permanente l'evento supporta un creatore. Ciao a tutti ragazzi sono Orcuverde e in questo video volevo informarvi non di una bella notizia in quanto questa notte Rockstar Games a tutti i giocatori ha rimosso i dollari guadagnati con money glitch per diventare ricchi su GTA V Online stando a FK. Money glitch che ho anche caricato nel canale e oramai pacciato da diversi giorni. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a condividere il video poi a lasciare un bel pollicione in su bomba e seguirmi sui social. Pagina Facebook, Instagram e canale Telegram e se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme trovate tutti i link nella descrizione. Mi raccomando Orchetti seguitemi su almeno uno dei miei social è molto importante per essere sempre aggiornati appena carico un video sul canale. Nel caso non dovreste ricevere la notifica del video di Youtube. E iniziamo subito! E si ragazzi Rockstar Games ha deciso di rimuovere a tutti i giocatori i dollari guadagnati attraverso i money glitch barra money drop per diventare ricchi su GTA V Online stando a FK. Funzionante fino qualche giorno fa su GTA V Online. Se almeno una volta avete sfruttato quel money glitch barra money drop prima che venisse patchato, quando avviate GTA V Online, durante la schermata del caricamento iniziale della storia oppure di GTA Online, comparirà questa schermata con scritto GTA Online. Il tuo saldo bancario in GTA Online è stato modificato. Abbiamo scoperto che il tuo account ha ottenuto illegalmente del denaro di gioco tramite mod, trucchi o altre azioni. Abbiamo modificato il tuo account e aggiornato il tuo conto bancario di gioco. Non sono previste altre azioni verso il tuo account. Ricordiamo che gli account che otterranno denaro in maniera illegittima saranno soggetti a provvedimenti come la sospensione temporanea o il ban permanente dalle funzioni online del gioco. E poi, prima di farvi sponare in una sessione su GTA V Online, comparirà questa schermata con scritto attenzione. Abbiamo modificato il tuo account, con scritto poi i dollari guadagnati attraverso quel money glitch barra money drop, in seguito a verifiche effettuate sul tuo account. Per cui, se avete sfruttato questo money glitch barra money drop, stando a FK per accumulare ogni 2 secondi 1000 dollari, facendo la propria console accesa diversi giorni. Come ho visto fare da moltissimi giocatori, si può dire che avrete fatto tutto questo inutilmente, avendo solamente così sprecato un sacco di corrente di casa. Fortunatamente io ho eseguito solamente questo money glitch per mostrarvelo in due video, di cui il secondo è stato l'after patch, quando hanno patchato il primo metodo. Questo vale solamente per e-money glitch barra money drop, per diventare ricchi su GTA V Online, stando a FK. Per altri tipi di money glitch, come e-money glitch per duplicare auto e veicoli, eccetera eccetera eccetera, potete stare tranquilli, potrete ancora sfruttarli da questo momento in poi tranquillamente, senza che Rockstar Games vi rimuoverà i soldi guadagnati. E sinceramente spero che non facciano questo anche su Red Dead Online, con i giocatori che hanno sfruttato i money glitch per duplicare la carcassa di Puma e venderla all'infinito, visto che ho sfruttato parecchio quel money glitch. E niente ragazzi, mi raccomando condividete il video insieme a tutti i vostri amici, in modo che anche loro sapranno riguardo questa notizia. Se ci saranno altre notizie, novità e informazioni, come sempre ve le porterò nel canale, lasciate un bel pollicione in su e commentate nei video per essere attivi nel canale. Iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social, trovate tutti i link nei miei social, nella descrizione. E da Orcoverde tuttora ci vediamo al prossimo video, bella!